allora ragazzi buon pomeriggio da come vedo siamo in live però purtroppo non mi esce in realtà mi esce non so perché non vabbè lasciamo perdere evidentemente non abbassato il volume vabbè ragazzi siamo live allora oggi oggi continuerò a sfidare i boss più difficili di questo maledettissimo gioco come da titolo provare un bestemmiare perché già sapete che questa volta io bestemmiare però no vabbè si scherza però è abbastanza difficile non farlo quindi raga io ci provo lo voglio finire così me lo tolgo davanti alle palle alle biglie e vediamo io raga vi dico la verità vorrei riuscire a finirlo però è veramente difficile allora allora io ci devo riuscire ci devo riuscire allora non si è bucato no proprio ci ritiriamo allora devo stare calmo molto calmo perché sennò mi incazzo e divento una bestia mi devo calmare allora niente però però niente però vabbè proviamo no ma io ci devo riuscire anche se ne devo anche se devo sconfiggere solo lui e poi gli altri po' tardi ok problema ragazzi che non riescono a bucare quello è il problema allora ci devo riuscire proviamo così stavo per bugare il pallino niente ok ah raga comunque volevo dire che niente oh gialla ho bugato il pallino credo che ah ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirvi essendo che non sto più facendo cioè non sto caricando più video su youtube dovrei farlo che ho bugato le russe vabbè proviamo solo che solo che aspettate solo che voglio anche continuare a portare video su youtube solo che ok ho bisogno di un po' di tempo anche perché vi devo portare real calma devo continuare con i video di real quindi vediamo un po' bella e il problema sarà ora perché devo bucare eh eh come le buco dovrei fare un tiro a bucio de culo vediamo se buco qualcosa no bene ritiriamoci allora il problema raga è sempre all'inizio ok non riesco nemmeno a bucare oh oh gialla ok ok allora non mi sembra proprio difficile allora che in realtà è semplice ora voi mi direte se è semplice perché tu non riesci a vincere non riesco a vincere per il semplice fatto che io non sono bravo con gli effetti con la potenza non so manco dove va il pallino quello è il problema allora per ora una sebucata due se va anche la sua non so se è fallo non dovrebbe essere fallo di norma ok ok allora vediamo un attimo se forse ci riesco la vedo un po' dura no in realtà addio dovrebbe andare ok il problema è che ora ce n'è ecco come le buco questa potrei provare a mandarla lì giù ci prova no niente ok no anzi allora sono curioso voglio che lui continui voglio vedere se vince vabbè qua sicuro ok questa sicura voglio vedere se riesce a bucare quella io credo di sì bene bene vabbè questa c'era sulla buca cioè guardate qua che cavolo ok vediamo sì ma le bucarà tutte wow cioè assurdo vabbè l'otto cioè raga è impossibile va bene vabbè ho voluto fare una prova volevo vedere eh raga pensate che questo è difficile immaginate l'altro sarà impossibile oddio se mi mette due due nove la palla nove si può fare con la palla nove però niente non si buca ma se tiro così oh rossa rossa sì ok 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 allora ragazzi questa non è non è impossibile però devo giocarmela bene eh fatemi dire una cosa eh aiaiaiaiaiaiaiaiaiaia ma allora piano piano se tocco questa potrebbe entrare allora devo fare una prova l'ho tolta addirittura ok 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 Però lo spacco qua non è male Il problema è bucare Raga ma adesso so che se buco all'otto vinco Quindi eh Devo capire come devo bucare sto lotto Ok l'otto è fermo Eh pallina di merda Mi entra veramente impossibile Però vedete non mi arrendo questa è una cosa bella Eh no Questo è stato veramente uno spacco di merda Vai Niente Il fatto che a me urta è che io nemmeno sullo spacco riesco a bucare Allora proviamo come ci da lui le palline Niente No allora voglio cercare di non muoverle Lui me le dà in un modo e io tiro direttamente Si bruma ti me le metti che non buco Cioè che b No sense No sense veramente Vediamo Eh vabbè Si ma non buco mai Mettimi b Cioè è inutile Cioè proviamo di nuovo Oh strano Ho bucato una Oh forse due Forse due Allora 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 Non è proprio Non è proprio infattibile Un po' di effetto sotto Ma va Te la piglia Ander culo va Mortacci Tu Raga ma è veramente fastidioso Cioè Se effetto sotto Oddio se è fastidioso Ok rossa Ok Il problema è che Ma cavolo Come cavolo faccio Come cavolo faccio No raga ho steccato pure Ma Fatemi vedere una cosa Sfalla Sfalla Bene 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 Ah raga con questo Sto facendo un po' pratica Con La classe archer Su real Non è una classe Che non ho mai utilizzato Eh Anche perché Ce l'ho a livello 64 Allora che vi dico una cosa In realtà i livelli Li avrei più alti Solo che essendo che a volte Mi scocciavo di giocare Molte volte Mi capitava che mi scocciavo Entravo Facevo soltanto Le Le missioni E quittavo Quindi non Non giocavo manco Fino alla fine E E nulla però Comunque Oh gialla Ok Però comunque Tutto sommato Comunque sto Con dei livelli Abbastanza alti Però non ho mai Livellato nessuno Al massimo Li voglio livellare Un po' tutti Allora Allora Io non dico che sia Infattibile Però Però Vediamo Eh Mo dimmi tu Com'è buco No in realtà Oddio Non è proprio impossibile Che questa La si butta lì Però devo fare un bel po' forte Ecco Così torno indietro Eh E non buco nulla Perché Non posso Non riesco Eh Come è buco Cioè Io Veramente Non ho Non ho Molte parole Da dire Ma Non lo so Non lo so Ragazzi Vi giuro Potrei provare A fare così Bene Ma buca Vallotta Beh Io mi ritigo Vai Eh Che ci vogliamo Però Dai Lo spacco Qui Non è proprio Male Dovrei Bucare Qualco Dovrei Hai detto Bene Dovresti Ragazzi Ragazzi Finché Non mi tolgo Qualche Sera Davanti Non posso Portarvene Altre Questo è il problema Quindi sto cercando di togliermi Ok Doppia pallina Allora Io ora posso scegliere Ok Io ora posso scegliere Ok Allora Vediamo Ragazzi Qua dobbiamo scegliere Allora ci sono Le gialle Che comunque Ok Però le rosse Il fatto è che Le rosse Ah No ragazzi Io provo con le gialle Devo provare con le gialle Allora Un po' di effetto sotto Ok Ok Con calma Roba Con calma Rilassati Rilassati Mi do Delle Parole di conforto Per non perdere Dai Ecco Ho fatto la cazzata Come ho fatto la cazzata Come ho fatto la cazzata No in realtà Oddio Penso sia Fattibile Ugualmente Sì Dai raga Questa era fattibile Addio Ma perché Sono così scarso Perché 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 Non ci credo Mai nella vita Mai nella vita Oh rossa Rossa Ok Però guardate La rossa Cioè Ma io come faccio A bucarlo Mi piace Basta Basta Non posso vincere Non posso mai vincere Ecco Mamma C'ho tre palline Tutte Dio Dio c'ho Quella Tutto di potenza Bella Bravo Raga Questa non si può mai fare In ridge mode Ma mai 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 Che poi non ho capito Se sto perdendo Se sto perdendo I punti La La valuta del gioco Non so Rossi Ok Però il problema È che No Oddio In realtà Aspettate Rossi Non è che non si possono fare Attenzione Questo non lo posso Mai fare Questo sì Però il problema È la potenza Raga Capite La potenza È il problema Allora Allora Raga Io Allora Domanda 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 Io non sto iniziando A capire sto gioco Perché quando Vedo che la linea Mi dice Che il tiro Va in quella direzione Io tiro E la palla Non entra Qualcosa non va Evidentemente C'è qualche problema C'è qualche Problema di fondo Devo fare così Butta giù Madonna Stavo pure per uscire Eh vabbè Ma anzi può fare Anzi può fare Io ci sto provando Eh Però Eh raga Qua sto tirando un po' A cavolo Non lo so Non lo so Non lo so Veramente Non lo so Dentro Non l'ho bucato? No Vabbè Raga noi saremo quasi un'ora Finché io non vincerò E poi comunque Se riuscissi A vincere Potrei provare a fare anche Uh aspettate Ok Potrei provare a fare anche L'altro Che uscirà Se riuscissi però comunque A vincere Se riuscissi Però a vincere Cosa Un po' Possibile Metto l'effetto Sono curioso Ok Tornate indietro Ok Non devo mettere tanta forza Nemmeno tanto effetto Allora Questa non si può fare Questa non si può fare Questa non si può fare Quella si potrebbe fare Ma dovrei fare il pallonetto Non so se ci riesco Eh Buonanotte Ah aspettate Uh Raga Ve la Ve la dedico Beh Madonna Madonna Raga Ma com'è possibile Com'è possibile Secondo me ci vorrebbe Tipo blanco Come si fa Oh Rossa 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 Ok Così si spacca sempre Ok C'è la Dico Si buca sempre Allora Questa Vediamo Si potrebbe pure fare Però devo vedere un po' La potenza Ok Mettiamo un po' L'effetto Mamma mia Che rischio Questa Potrei imbucarla Sempre di là E che sto provando Ma So che comunque è tutto inutile Perché No Togli Ecco Un po' così Vediamo Ma raga C'è allucinato Oh Mamma mia Che bucio Che bucio Ma metto troppa potenza Secondo me Ok Ok Però raga Non si può vincere C'è come Come faccio Spiegami Spiegami Io come posso vincere Ecco Allora Sono sicuro che qualcuno ha vinto su sto gioco Sicuro Ma secondo me è uno che ci sa giocare Oh Niente Come si fa Come si fa A vincere Una partita Bucato Nada Io sarei curioso anche di vedere da quanto tempo stiamo Qua eh Oh gialla Ok Allora io penso che stiamo qua da No una mezz'oretta No però 15 minuti Si Oh Ho indovinato 16 minuti Allora abbiamo le gialle Le gialle Ok le gialle Le gialle Ecco Io mo se buco quella buco anche la mia Ecco Come la buco questa Non si può buca Questa Ci sta l'otto Questa Eh sta la Eh Raga ma non si può fare niente Non si può fare un cazzo Basta Mamma mia raga Che Boh C'era la cazzo andata Boh vabbè Boh vabbè Oh si 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 bro però Fammi di un cazzo No tocco Tocco altre palline Si può fare Raga non devo tirare forte Perché c'ho sto vizio di tirare forte Perché c'ho sto vizio Non devo tirare forte Perché 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 Bucala Bucala una Dai Niente Bucala il pallino Non è per scherzo Per poco però Per poco No Ho sbagliato Vabbè No Che cazzo Beh vabbè raga Si vabbè dai Ma inizia a bestemmiare Seriamente Ah Dio 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 Torna indietro Questo è reggio mood Raga Allora Vai Rimmentro E mangio una caramella Vai Vi faccio anche un po' di smr Che non fa mai male Zucchero che cade ovunque Ok Raga Proviamoci Proviamoci No Vai La rossa quasi Però questa qua A limone Non sono male Queste caramelle A limone Ok Ok Però Devo fare così raga Devo far muovere il pallino Un po' più forte Un po' più forte Eh si Qua Oddio 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 In realtà Qua non è proprio male Uh No No Serio Ci sono riuscito Sì Qua devo tirare forte Devo fare di tutto Qua ha tolto tutto E ora ci sta la rossa Troppa potenza Troppa potenza No ma in realtà Oddio Faccio così Quasi Questa Mamma mia Eh raga ma non si può fa Non si può fare Perché ci sta quella Ci sta questa Come faccio Questa mi sa che Oddio no Dovrebbe entrare No No Eh raga è difficile No Non ci sta proprio Niente da fare Raga Mangio un'altra Queste caramele Sono veramente buone Ok Anche se cade zucchero Appunto No niente Niente Non si fa Non si fa Oh rossa e gialla Ok Oh due rosse Due rosse Oh niente Ma che va Come dico io Eh ma è mo la gialla Come la tolgo Mamma mia Impossibile vincere Rossa rossa Ok Ci prova Dio quanto sto rovinato Quanto cazzo sto rovinato Mamma mia In guardabile In guardabile Devo provare a fare una cosa Scusate mi ha fatto ridere Bellissima sta cosa Ci riprovo Ci riprovo Uh Vabbè Un po' Una cazzata Però Che bucato Rosse Se si fermava un po' Prima Però potrei farla di così Ci posso provare No Un po' Pi' Pi' Forte Dio mio È pure il gioco È vero che Mi odia Che vorrei provare ad utilizzare Tipo quei g Si sta detto Quella roba Non lo so Niente Oh gialla No ho bucato una Che non ho capito quale Era Penso alla rossa Yes Allora Qui ho un po' Paura Vediamo se si muove Sì 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 Vabbè Tu la dovevi Piglia di sponda Quella Però Raga A volte Così Non so Non ragionassi Vabbè Un po' Ora che è così Perché sinceramente È arrivata ad una certa Posso pure una pippa Inizia ad annoiare Inizia a fare i tiri Veramente a caso Oh l'otto L'otto Che succede Se buca l'otto Ho vinto No 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 aspetta Aspetta Spacca lui Fatemi vedere Questo male buca tutto Ehi vabbè Eh Perso No però Sono curioso Dove vedere se le riesce a bucare tutte Raga Vi giuro Non mi interessa Lo guarderemo Allora questa l'ha bucata Ok Questa come me la buchi Questa non la buchi Infatti Buca quella Buca questa Poi Queste tre come me le buchi No queste le voglio vedere però Mio dio dai Cioè Raga capite perché Non si può vincere Cioè Guarda questo E' bucata tutte No ma è allucinante Cioè Oh fai lui questo Sì vabbè Sì vabbè Questo è facile Per lui è facile Io l'avrei sbagliato Bene 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 Ricominciamo Allora Gialle Bene Gialle Qua C'è impossibile Però Allora Facciamo così Un po' di effetto Un po' così E si ferma Ottimo 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 Un po' di effetto Un po' di potenza Un po' di qua Bella Fermati 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 Sì raga ma sarà Sempre quelle due Io come faccio Cioè io ho preso il buco questa No quella come faccio No troppo forte Un pochino Allora Non so se ci va Sì c'è andata Eh raga ma sarà Sempre quella due Anzi quelle tre Che schifo Cazzo C'ho in bocca Dio Perché Dio Perché No ma io queste live Le devo chiamare I boss Perché Cioè Sono impossibili Un po' più forte Beh ma La potenza è quella Non si poteva fare niente Io non so Però se sto perdendo la valuta Vi ripeto Darsi pure Cinque alla volta Tipo Ho cabucato una pallina Ma non ho capito qual era Eh raga ma guarda Stanno tutte vicine Possibile Allora Rosse Raga Ok Ok ora sto iniziando a perdere la pazienza Ora potrebbe succedere una bella strage di bestemmie Niente Niente da fare Allora Raga aspettate un attimo Devo vedere un attimo una cosa Attenzione Allora Allora Fatemi di una cosa Ok Non lo so No ok Niente Non lo so Mi deve andare di culo Niente Stavo a vedere se c'era meno un modo per bucare Allo spacco Più pallina possibile Tipo Che raga veramente Cioè Non si può fare Cioè perché tu se non buchi dall'inizio Non puoi Cioè Puoi vincere Cioè io sto Tra l'entra che sto qua da Cioè Telefono Cioè io sto qua da Boo Eh abbiamo fatto un'ora quell'altra volta Un'ora mo Eh cioè Mi sembra un po' eccessivo Vabbè pure che io non so Non so bravo Cioè avrei potuto vincere benissimamente Sì Fosse stato un pochino più Decente nel Nel gioco Però purtroppo Purtroppo Giallo No guardate non entra in meno la gialla Io non ci credo Non ci credo proprio Allora riproviamo Non si può fare Raga non si può fare Niente Qua non si buca Ah Bene Possibile Possibile Allora Gialle No russi Cioè guarda là Gialle e russi Questi toccano Non entrano Va bene Cioè io Allora poi un'altra cosa Questa la devo dire Di nuovo Com'è possibile Che Sullo spacco Sullo spacco Tu mi metti La pallina Già Cioè la Steccato a caso Tu mi metti La pallina In un punto Io tiro E non mi fai Manco buca Una mezza palla Cioè Ci riprovo Ok gialla La rossa sta Qua Qua Torna dietro Ok 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 Relax Relax Non dico che si può fare Però Ci possiamo provare Allora Questa è un po' più forte Si torna un po' indietro No Però troppo No Così C'era che io No No vabbè Oh no Aspetta 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 Non è male Non è male Ma Dio Porco Dio Ma che gioco di merda Che gioco di merda Cioè ma quello Scusa Ma non doveva entrare Boh Vabbè Gialla Vabbè per me è una tortura Questo gioco è una tortura Non è un gioco Una tortura Cioè peggio di getting over it Per farvi capire Che ci ho giocato eh Ormai è finito però ci ho giocato Ed è una tortura quel gioco Piano Troppo piano Vabbè dai Cioè no No Cioè non accetto sta roba Boh Non lo so ragazzi Non lo so Rosse Allora Rosse Proviamo a prendere quella No ragazzi no No raga no No veramente No veramente Cioè Io non lo so È il gioco che rincoglio Nito Io che non so giocare Cioè quella pallina era dentro Com'è fatto ad uscire Cioè Io non lo so Boh Boh Non lo so Veramente non lo so Boh Vabbè Eh ragazzi Sto iniziamo a perdere colpi Io credo che farò solo questa live E forse Ragazzi proprio perché voglio Cioè voglio arrivare Proprio all'esasperazione Forse ne farò un'altra Cioè guarda qua Guarda qua Dicevo Credo che farò questa live Un'altra Ragazzi vi giuro Se non va Non lo faccio più Che veramente È una tortura Vi ripeto Cioè io non Allora Avevo spiegato nel senso Di fare una live Così Cioè una live così Che live è? Allora io lo faccio così Ecco Di nuovo Arriva edizione Entro Sul gioco Starto Se non buco Ritento Se buco Provo E appena Sbaglio una pallina Devo tornare indietro Cioè ricomincio Che non si può vincere Bene Vai Dai Gialle Ok Stanno tre rosse E stanno una miriade di gialle Dove sto io Allora Io poi sto pensando Che ero anche arrivato alla fine E non sono riuscito A vincere Il gioco mi odia 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 Il gioco ha detto Tu mi stai su coglioni Tu devi perdere sempre Devi fare Devi fare tutte le partite così Rosse 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 Porco Dio Ma no 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 raga Non ce la faccio Non ce la faccio Ce la faccio È più forte di me È più forte di me Gialle Ok Gialle Gesù Gesù salvami tu Gialle Ma il problema è bucarle Tutte le gialle Io già lo so che questo Ma scelta No ok Mi rimane Togliti Devo riprovare Devo riprovare Ma come le buco queste Cioè dovrei far così No raga dai È una pigliata per il culo Sto gioco È uno scam totale Dai Ti buco la tua Che cazzo È fallo Esci Vabbè si è fallo Perché è rosso Bene Ma tira lui Tira lui A posto Andietro No raga secondo me Nessuno ha mai fatto Le carriere Allora io Ve l'ho detto Forse un'altra Me la faccio pure Un'altra live Dopodiché raga No basta Dopodiché Basta veramente Che non Non è fattibile Questa ad esempio Come la buco Questa non si può bucar Queste due potrei bucarle Ma come le buco Cioè Allora Allogica Allora giochiamo a logica Ok Io gioco con la logica Allora giochiamo con la logica Questa va qua Ma spiegami tu Perché non Boh Allora 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 basta Ma mi devo fare una partita Sulla logica Mi devo fare una partita Perché può darsi pure Che sto giocando A cazzo di cazzo Peccato che a me Questa gialla Me l'ha attaccata Proprio vicino Signore mio Signore mio Signore mio Che t'ho fatto Signore mio Io che sono atio Io che sono atio Ok Una l'ho bucata Fermati 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 Non attaccare Non attaccare Non attaccare Ok Non ho capito Quale ho Le russe Eh Questa mi sa che Mamma mia Che bucio Eh mamma mia Come faccio A caso Però Allora Sono Sono una persona Un po' fan Io Ho detto Raga io giocherò Sulla logica Tu sto facendo Il trend che giocare Di logica Ok gialle Gialle Allora Gialle Effetto Effetto Ok Ok La pallina è tornata Conca Ora Questa Non si può bucare Questa si potrebbe Ma non si può No aspettate Aspettate Che sto a dire Aspettate No Ok Niente Io devo capire C'è un trucco Per vincere Non l'ho bucato Bene Tornami dietro Non è un problema Tornami dietro E cominci Effetto Tiro Gialla Russa Bene Allora Io vado di No raga Qua ci devo pensare Qua penso che andrò Di rosse No Sì Di rosse Fatemi vedere le rosse Eh Però Le gialle pure No raga Deve andare di gialle Quando Fatemi vedere le gialle Eh Cazzaro Le rosse pure Sono belle Però le gialle No raga Deve andare di gialle Ti prego Signore mio Ok Ok Non è proprio Andata male Non è proprio Andata male Allora Allora Ok Non lo so Allora Allora Io già lo so Che non vinceremo C'è scontato Però dai Ci stiamo provando Ci stiamo provando Io qua raga Devo capire l'effetto Perché qua L'effetto Potrebbe salvare Se io la tiro Di qua Tiro di qua L'effetto Va di là Fatemi vedere La pallina Ok E ci entra Ci dovrebbe entrare No Non ci credo Mai Ragazzo Vi giuro Sto per piangere Giuro Sto iniziando ad avere Una crisi Cioè Che non è possibile Non è possibile Ragazzi Non è possibile Non è possibile Veramente Non lo so Una tortura Ve l'ho detto È una tortura Cioè Veramente Ma poi Allora Questa linea Non serve a un cazzo Perché non ti indica Una sega Non serve a nulla Eh vabbè Questa pure è infattibile Sto partita Già si vede Vabbè Uno ci prova Vediamo come va Eh Questa va da qua Proviamo No Perché si sminca Proviamo Ok Ok Ragazzi Sto provando In tutti i modi Non si può fare Non si può fare Ma la mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Sto persino A bestemmia Napoletano Eh 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 Bestemmia Bestemmia Napoletano No raga Vi giuro Appena arrivato Non rastacco Poi vedo Se farne altro Chiaramente Io a volte poi Vabbè Dico le cose Poi ci ripenso Dico no Secondo me È meglio di no Però sì raga Penso Questa sia la mia sconfitta Ci giocherò Online Sicuramente Perché non è che Becco Stai bestie Qua che Non ti fanno Fancazzo Cioè oddio Si possono Beccare Però è un po' Difficile Che Diciamo Bucano tutte le palline Le biglie Le palline Cioè vi giuro Veramente Lo volevo finì Volevo finì Tutto Però Arrivato a questo Punto Ecco Sbagliato Penso che A parte che non so Manco che titolo Mettere Già avevo Pronto la copertina Cioè calcolate Avevo la copertina Già pronta Niente No raga Ma è Infattibile Infatti penso che Scriverò Carriera professionale Infattibile Cioè proprio così Vi giuro No scriverò Tipo infattibile Parte 1 Infattibile Parte 2 Poi la prossima Vedo se la voglio fare O meno Perché raga Veramente Una tortura Cioè guarda Adesso da 3 ore Fa sempre questo Mi stanno Che noi Che noi Veramente Ma pure io Che cazzo Cioè non potevo farmi Cazzi miei Quella giornata Posso portare Sta merda di gioco Anzi Sta merda di carriera Perché il gioco Non è che fa poco cagare Anche se questa modalità Fa cagare Perché è impossibile Da fare Per uno come me Giustamente Perché specificamolo sempre A fine che entra qualcuno Oh ma tu sei scarsa Cagami l'uccello Anche perché a me La carambola Mi piace Cioè il biliardo Mi piace Però non è che mi fa impazzire Però esco il biliardino Calcio a balillo Come cazzo si chiama E poi il frame rate Lo vedo più rallentato Ma a caso Boh Che raga Penso che Stiamo da tre ore Così a tirare Bucato qualcosa Non mi pare Però raga Devo vedere Da quanto tempo Siamo in live Chiaramente 40 minuti Ok raga Altri 20 minuti Vediamo Ma sto tirando solo Rosse Ok Possibile le rosse Che stanno tutte attaccate Alle gialle Grande Vabbè ci provo Vediamo come va D'accordo Adesso faccio la live Muto Non parlo più Adesso faccio la smr Col joystick Col pad Dimmi che sono le gialle Grazie Gentilissimo Allora Togli 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 Mannacce Guarda Mannacce Ma come cazzo si fa Come cazzo si fa Come cazzo si fa A parte che non si poteva Manco vincere Ok stavano tutte le gialle Sulla 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 Buca Diciamo Però c'è veramente Come cazzo si fa Io ne avevo tre Sulla buca Più o meno Quindi comunque Non era male Gialle Ok Fermati Allora Allora Gialla Io non vedo nemmeno Qua Oh Beh proprio No Bene Fermati Posso fare niente Devo tirare forte No aspetta 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 Devo tirare forte Aspettate Forse si può fare qualcosa Sì raga ma non si può fare Non si può fare Cioè questa oddio Questa si può fare Beh l'effetto Sud poi non va Mi incazza Ok Sì raga ma Ripeto Non si può fare Non si può fare Questa Aspettate 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 Questa potrebbe andarci Laggiù Che sponda di merda Niente Niente Devo provare Devo provare Devo provare Basso Devo provare A fare cose strane Perché io non voglio finire Cioè non voglio finire Un gioco Finire Non voglio Diciamo Abbandonare un gioco Senza fare prima roba strane Per vedere se è fattibile Bene ho bucato il pallino Grande Perché secondo me Un trucco c'è Un trucco c'è A parte che io sapevo Che se tu spaccavi Però questa Non è una regola Reale Se tu spaccavi Sto bucando sempre Il pallino E che Gesù Cristo Dicevo Comunque credo Che Se io Buco Cioè Ricordavo Questa regola Ma secondo me Non è vera Se bucavo All'otto Sullo spacco Vincevo Invece no Da come ho capito Se buco all'otto E fallo Guardiamo Qua il framerate Fa veramente schifo Però vedete Spaccare qui È meglio Perché tu Se spacchi qui Aspettate C'è un'idea Ok È però Un bucato niente Quindi deve Fa lui Infattibile Se faccio di così Ma va dentro Così così Sì Va sempre dentro Mortacci Tu No raga Veramente Basta Ce la faccio più Basta Basta Mi arrendo Mi arrendo Io C'è sempre Lo stesso vizio Di buttare il pallino Che a me Non mi serve Questo pure va dentro Questo no Mamma mia raga Questa Raga questa Questa si potrebbe fare Questa si potrebbe fare Allora Vediamo Raga devo provare a fare una cosa Devo provare a fare una cosa Allora Dovrebbe entrare Aspetta ma questo gesto a che serve Devi invocare una biglietta Allineate Non so che vuol dire Senti 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 Sincero Te lo dico col cuore Prendi Prendi la stecca E infilatela Dove non sorge il sole Infilatela lì Infilatela lì Oh Gialle 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 Guarda Però Madonna Che palle Sto gioco Oh E dammela La soddisfazione E dammela Sto gioco Da due ore Sta merda Dammela La soddisfazione A parte la che Framberi Literalmente Ormai è andato Ormai pure la play Ha detto Basta Non ce la faccio più Basta Sto gioco Raga penso Che sia l'ultima live Perché Vi dico la verità Fare un'altra live Del genere Non è una cosa Che mi Garberebbe Anzi è una tortura per me Che lo subisco E per voi che lo vedete Quindi Basta Mi arrendo Mi arrendo Mi arrendo Facciamo un'ora Stacco Ci vediamo domani E E poi Vediamo Vabbè Questa per me Come serie è finita Cioè ve lo dico È finita proprio come serie Vi porterò sicuramente Qualche live Così tanto per Quando mi andrà Però Non Non Niente Non ho bugato niente Dicevo Però comunque Basta Basta Sinceramente Basta Ok Titolo Non lo so Vabbè poi vedrò Tanto Però Apprezzo Di essere Sono contento Almeno di essere Arrivato Fin qua Anzi Credo che i titoli Li cambierò Perché Io i titoli Li ho messi Ho messo Carriera 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 Forse ci metterò Anche qualche titolo Giusto per Tipo che ne so Facile Poi Improvviso Che ne so Vabbè Questa è stata Un po' Più difficile Poi magari Ad una certa Schifo Che questo Era infattibile Ho abbandonato Perché Cioè Allora Questa Questa ad esempio Questa Questa ad esempio La devo fare D'effetto Io non le so Io non so Fare l'effetto Ragazzi Non lo so fare Cioè Ragazzi Voglio piangere Allora Se io butto L'effetto di qua La palla dovrebbe Prendere quello Se io butto L'effetto di qua La palla dovrebbe Schizzare Verso Sinistra Ci devo provare Ragazzi Devo provare Toccate prima La rossa Guardate No però Devo uscire Scritto E fatto fallo A posto Ok niente Volevo dire una cosa Va bene Va bene La voglio tirar Centrale Ora Gialle Ok Gialle 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 Eh no Quella Se la tiro Mi sa che buco pure È la mia Questa mi sa che nemmeno La faccio Aspettate 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 Spiglio Se la prendo Di così Meno male Finalmente Un tiro di sponda Che si ha Lo dato Gesù Questa Questa Secondo me Ci va Guardate Secondo me Sì Oh Dio Madonna Che tenebrosa Rossa come la Coca Caffè nel Moka Allora Voglio vedere un attimo A che ora stiamo 50 minuti Ok Fra 10 minuti Che sono 17 Ok Postacco E saluto Questo gioco Schifosissimo Però ripeto Schifosissimo In questa modalità Che io Non la so Fà La vediamo Dovete Attaccare Vabbè Buonanotte Buonanotte Io Io So Curioso Devo Eh Ero Curioso Aspettate Qua manco C'è Rio Cioè Ma vedete Qual è il problema Di questo gioco Cioè Oh Aspettate Aspettate Non è infattibile Cioè Non è infattibile È impossibile Staccato Sì Ragazzi Ma io voglio Che le palline Stanno quasi Per uscire fuori Cioè Non è normale Domanda 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 Com'è potuto succedere Com'è potuto succedere Ragazzi Allora Allora Io qua devo fare una cosa Che se no Veramente Io qua Devo Devo utilizzare bene La potenza No perché Veramente Perché può darsi pure Che sto sbagliando Perché tiro sempre forte Devo Dossare bene La potenza Allora Non guardo La linea Non guardo niente Allora Che mi posso Tirare Le rosse La rossa La rossa La tiro laggiù Vediamo Culo Sì Molto culo Sì Allora Qua che mi posso Tirare Quella Ok La tiro di così Allora Fammi vedere No io devo Devo giocare veramente Come senza regole Tipo Bucata A posto Non ti attaccare Più o meno Allora Io ora Avrei Questa Che non so Se riesco a fare Forse Sì Hai detto Bene Forse Però vedete Già è andata un po' Meglio Perché non ci sto Pensando Alla potenza Sto più Basando la potenza Il tiro Due 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 Bella Ok posso scegliere Finalmente Allora Il problema è che Comunque stanno sempre Quelle due laggiù Quindi è un po' Difficile Allora Allora Rosse o gialle Rosse Onesta Rosse Tolgo la potenza Un po' Più di qua Mamma mi ha detto Ok bene Inculata di nuovo Vabbè Comunque Cioè Sono lo stesso Inculato Ok Come Come faccio Infatti Vabbè Vabbè Non fa per me Non fa per me Non fa per me Nulla Rosse Doppia russa Doppia russa Aspettate Doppia russa Ok Doppia russa Doppia russa Problema Eh Come la buco questa No Aspettate Fattibile 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 No Aspettate Devo mettere il gesso Non mi interessa Mettiamo sto gesso Fini che ci salva Culo Culo Ok Tanto Ragazzi è inutile Ci metto la speranza Ma tanto Pagano ce la faccio Questa Voglio tirare forte Ok Questa Ammetto Che Diciamo che Sapevo che Andava lì Questa Lì Allora Allora Gesù 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 Se il gioco Mi dice Che la pallina Va in quel punto Io tiro E la pallina Mi piglia Il bordo Allora Mi sta Piappi Culo Non è che Cioè Voglio di Giusto Pede La curiosità Non è che Non ti sta aggredendo Però la curiosità Oh Rossa Ok Questa Tocca Questa Raga Veramente Veramente Questa Analisata Di nervosismo Ricordiamolo Sempre Perché Non è che Mi sto divertendo Non è che Ah Bello Questo gioco Mamma mia Stupendo 12 su 10 Oh Cioè Mamma mia La stupenda S2 Mamma mia Niente Vici a questo gioco Cioè Cavolavoro Metacritic Voto 100 su 100 Assurdo Mamma mia Che frame rate Schifoso Gialla Gialla Ok ragazzi 5 minuti E vi abbandono E mi hanno Affanculo Sto gioco No scherzo Rossa Gialla Rossa Rossa Devo andare Di rossa La potenza È troppa Togli Togli Ah Io avevo La gialla La rossa Quindi il fallo Non vale Bene Eh Questo Vabbè dai Imbucabile Gialla 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 Raga Questa ci va Dai Questa va Dentro Meno male Eh Il problema È che Guarda qua Dove cazzo Sono andato a finire Allora C'ho la gialla Laggiù Allora Questa Potrei fare Combo Con questa Eh Non so se La prende C'è La prenderla La prende Il problema Bucarlo È un rischio È un rischio Però se la tiro Ecco No vedete Se tiro Mi prende la La nera No Tiro questa Ti prego Vabbè 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 Vi dirò Forse Sono più contento Così Così Non lo porto Più Beh Che giustamente Se riesco A vincere Io continuo Che io Già mi conosco Forse è meglio Se non vinciamo Doryman Mi è cagato Il cazzo Il gioco Di merda A meno A meno Che poi Vabbè Niente Volevo dire una cosa Però Non lascio Una cosa Bene Quattordici Mancano tre minuti Ah Me la sto proprio Me la sto proprio Contando col cronometro Raga Allora se fosse stato Per me Vi dico Già avrei abbandonato Dopo 20 minuti Però essendo che Io non ho Come si chiama Quel Elgato Non so che cazzo sia Comunque è tipo Un software Non ho capito Che cazzo sia Vabbè comunque Che ti permette di Fare la live Ah ce l'ho in giallo Bene Infatti Vabbè dai Ormai Ok Dicevo Con questo Elgato Io in pratica Posso tipo Streammare Qualsiasi gioco Senza dover Staccare la live Gialla Niente Quindi Peccato che non ce l'ho Perché le live Srebbero state più divertenti Perché avrei potuto fare Ragazzi Oggi Live Così Boom Vi porto fort Vi porto real Cioè sarebbe stata Una live Veramente carina Molto lunga Una live Veramente lunga Non Che dura un'oretta Ma una live Raga Lunga Se dico lunga È lunga Però purtroppo Non ce l'ho Ci dobbiamo accontentare Per forza così Potrei comunque fare Una live Dopo un'altra live Però non è solamente Che mi garbi Più di tanto L'idea Sincero Ci devo provare Ragazzi Ci devo provare Niente È andato Troppo 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 All'infuori Eh vabbè Ah rossa Guarda là Guarda là 16 Eh raga Mancano Giusto 20 secondi Allora Facciamo una cosa Appena buco Ci riprovo Se va male Stacco Stacco Quindi Doppia bucata Doppia bucata Ragazzi Ultima chance Per vincere Ultima chance Io non so Giocare Quindi Questo l'abbiamo capito Perché se no Avrei finito Io questo Onestamente Non so Manco come la devo tirare Vi dirò Però C'è la rossa C'è la gialla Tiriamo la rossa Con la gialla E vediamo di fare qualcosa Non ho bucata nulla Bene Stacco Allora Vi dirò Ci ho provato Ragazzi ho provato Lo sapete benissimo Progresso 80% Ci ho provato Ci ho veramente provato Ma è troppo difficile Se devo stare qua Battire Sera Pomeriggio Ogni live A fare sto gioco Onestamente Non mi va Non mi va Non ci riesco È più forte di me Io però Vi ho portato Le tre carriere Queste vabbè Sono molto facili Sono molto fattibili Spero che comunque Vi siano piaciute Questo fatto Questo fatto L'ho fatti tutti Sono riuscito a fare Solo una Che sarebbe lei Lui Era che è impossibile Gli altri Non li ho sbloccati Però Raga Non fa niente Ci sta Mi sono reso Mi sono reso È più forte di me Posso stare qua No Onestamente No Non mi va Allora Commenti su questo gioco Allora ragazzi Non dico che Lo elimino O non ci gioco più Ci rigiocherò Sicuramente Farò qualche live Non spesso Forse se mi capiterà Di farla Però sarà una live Dove comunque Gioco online Quindi con altre persone Però devo prima vedere Se l'online funziona Perché se non funziona L'online Non posso portarvelo Perché purtroppo I server Non hanno problemi Server di questo gioco Quindi Io Ragazzi Ve l'ho detto Ve lo porterò Sicuramente Poi I prossimi giochi Allora ragazzi Domani non so Credo che vi porterò Fortnite Poi vi dico Forse ora Vado a registrare Un bel video Per Youtube Perché no Visto che Canale Allora Vi dico anche un'altra cosa Prima che mi dimentico Allora Su Youtube I video li carico Tra il sabato E la domenica Quindi State sintonizzati Verso Quelle giornate Lì sul mio canale Youtube E troverete Tutte le live Che ho caricato Su Twitch Le troverete lì Tutte Tutte E Quindi magari Se non mi seguite Tramite Diciamo Twitch Potete seguire Tramite Youtube E Allora ragazzi Prossima serie Che vi porterò Allora vi dirò La verità Ero Molto Deciso Con The Sims Però The Sims Essendo che è un Qualcosa di molto Più lungo Dura Cioè veramente Durerà molto Non lo so Vorrei portarvi Forse a più Dead Island Allora Due sono le cose Però ragazzi Aspettate Questi ve li porto Quando finisco tutto Cioè nel senso Vabbè Fortnite no Perché Fortnite Vabbè Il Batpass Però Shadow Tactics Lo devo finire Quindi penso che finisco Prima Shadow Tactics Nel mentre Shadow Tactics Vi dico anche cosa porterò Fortnite E Rec Room Forse vi riporterò Qualche altra Perché mi piace molto Poi Real Modio Real Modio Real Modio Real Modio Il format pronto Format già portato L'anno scorso Che vi voglio riportare Però lo sto riproponendo Prima su YouTube Quindi Voglio aspettare un po' Prima di fare questo format Che Real Modio Non è che l'ho abbandonato E attenzione Ci sto giocando ogni giorno E Non lo so ragazzi Quindi Credo Shadow Tactics Fortnite Poi Credo Dead Dead Island Dead Island Dead Island Dead Island Peggol Anche Quindi potrò Allora Non so Se inizierà con Dead Island O Peggol Voglio vedere quale Dei due finisce Prima Credo Peggol Peggol forse durerà 5 ore Più o meno Quindi Peggol è più fattibile Dead Island Credo ci vorranno Credo forse 20 ore Quindi non è proprio poco Vabbè nulla ragazzi Io vi ringrazio Mi dispiace Mi dispiace Per non averlo finito Questo gioco Però ragazzi Purtroppo A parte che Non è detto Cioè nel senso Ci ho voluto portare la serie La carriera Però ragazzi Veramente È impossibile Perché io con le sponde Non ci so giocare Con gli effetti Non ci so giocare La potenza Non mi so regolare Con i tiri Avete visto Io Mettevo sulla buca La linetta Tiravo La pallina Prendeva il palo Sfiorava Usciva fuori Cioè È giocabile per me Però Vi ripeto Non è che Non lo porterò più Ragazzi Nulla Vi ringrazio Ci vediamo domani Credo con Fortnite Visto che voglio finire La settimana con Fortnite Shadow Tactics Ve l'ho portato Avevo detto Che vi portavo Due Diciamo Due Due live Questa settimana Però ragazzi Fortnite Purtroppo Ora che c'è il pass È un po' più difficile Da livellare Quindi Ragazzi Nulla Vi ringrazio Mi dispiace Per avermi Cioè per avermi Stembiato Però purtroppo è così No ragazzi Vi ringrazio Un bacione Ci vediamo domani Ciao a tutti E un abbraccio E un abbraccio Ciao a tutti